Tornano a salire i nuovi contagi da coronavirus in Sicilia. Sono 782 quelli registrati oggi, ieri erano stati 598, su 26.527 tamponi tra molecolari e test rapidi, con un tasso di positività che aumenta e passa dal 2,4% di ieri al 2,9%. Incremento anche rispetto a mercoledì scorso, più 13% di casi, ma con un più 11% di tamponi processati. La Sicilia oggi è l'undicesima regione nel contagio giornaliero a livello nazionale, in base al bollettino odierno del Ministero della Salute. Sono 12 decessi nelle ultime 24 ore, che portano a 4.383 il totale delle vittime dall'inizio della pandemia, 581 le persone guarite. In crescita non solo i contagi, ma anche il numero delle persone ricoverate in ospedale, sono 734 quelle in regime ordinario, 9 in più rispetto al dato di ieri, e 116 quelle in terapia intensiva, con un incremento di 3 pazienti. Il numero degli attuali positivi è di 14.965, con un aumento di 189 casi rispetto a ieri. Questa la distribuzione dei nuovi contagi tra le varie province. Palermo 352, Catania 166, Agrigento 35, Messina 25, Caltanissetta 35, Siracusa 65, Ragusa 42, Trapani 16, Enna 46.